Siamo in Rai, è stato appena presentato Napoli-Roma-Venezia in un crescendo rossignano, il docufilm per la regia di Lina Wirtmuller, promosso dalla direzione delle nuove tecnologie della Rai in collaborazione con Eutelsat ed è proprio con Luigi Rocchi, direttore delle nuove tecnologie Rai, a cui vorrei chiedere come nasce questo progetto e con quali finalità. L'idea di utilizzare una figura di eccellenza come Lina Wirtmuller, una regista veramente straordinaria, innovativa, curiosa, eccetera, e di mettere assieme questo cast particolarmente adatto a Giuliana Desio, Elio delle storie tese, eccetera, e inserirle in un contesto per rappresentare la bellezza del territorio italiano, delle città italiane, appunto Roma, Napoli, Venezia, viene proprio direi bene nel senso di sperimentare la tecnologia e di applicarla nell'arte. Vorrei anche, come dire, scherzare con la parola tecnologia che è appunto come si sa dal greco linguaggio attorno appunto alla tecniche che è appunto l'arte, quindi già la parola tecnologia in sé ha la tecnè arte rispetto alla utilizzazione con le nuove tecnologie. Quindi direi che è questo, come dire, un po' il momento, diciamo, di partenza associato ad un aspetto. La Rai, nella sua direzione, si orienta a sviluppare le tecnologie. Il nostro direttore generale giovedì scorso, 10, nel presentare i risultati di bilancio che sono in attivo per 5,3 milioni di euro per la prima volta, anno 2013, si è soffermato su tre capisaldo. I tre capisaldi sono, numero uno, ovviamente la qualità e l'eccellenza del contenuto, numero due, i conti che devono essere ovviamente perfettamente a posto, terzo, la tecnologia all'avanguardia. Ecco, noi come strategie tecnologiche cerchiamo di sviluppare questo terzo polo. Ecco, questo vuol dire che vi è un rinnovato impegno della Rai nei confronti delle sperimentazioni tecnologiche del futuro, quelle che lei stesso ha indicato poco fa come la televisione di nuova generazione. Come veicolare questa nuova frontiera ai consumatori con cui dovete fare i conti ogni giorno? Dunque, in realtà, diciamo, lei tocca il problema di fondo e un po' i gangli vitali della Rai, perché la Rai è una società che produce prima di tutto e quindi deve avere una cultura all'avanguardia nel momento della produzione, quindi sia strumenti tecnologici ma anche cultura. E qui noi stiamo sperimentando i limiti tecnologici del 4K, per l'appunto, c'è l'altissima definizione. Inutile parlare di aneddoti dove addirittura la caveria oppure la presa, l'HDMI per alimentare il televisore, subisce uno stress. Non basta l'1.4, ci vuole il 2.0 per l'appunto. E quindi dobbiamo toccare proprio i limiti massimi, come pure l'utilizzazione di inquadrature o di panoramiche più o meno veloci. Fanno i conti con i 25 frame al secondo, i 50 frame al secondo, i 120 frame al secondo che ci permettono appunto delle carrellate più veloci o meno veloci. L'audio, anche questo, si spinge all'altissima definizione 5.1, 7.1 e al 3D. Sì, i microfoni sono anche 3D, cioè è possibile fare anche, la RAI ha un brevetto, Ingesco Pesce, Centro Ricerche e Strategie Tecnologiche, è titolare di un brevetto, insieme per esempio all'Università di Parma, su questo primo in assoluto microfono al mondo che è in grado di fare la profondità, quindi essere un po' un microfono 3D. Tutto questo è un punto di eccellenza sulla tecnologia e sulla cultura di utilizzazione di queste tecnologie che va assolutamente nell'ottica dello sviluppo RAI. Ecco che il Tg2 è stato già digitalizzato, il Tg1 e il Tg3 nei prossimi mesi avranno questo sviluppo verso l'alta definizione, verso la digitalizzazione e via via le sedi regionali, quindi tutta la RAI, il grande corpo della RAI acquisisce benefici da questa innovazione tecnologica. Il suo settore all'interno della RAI è impegnato proprio nelle nuove frontiere della tecnologia e spesso l'opinione pubblica chiede alla RAI un ruolo più attivo verso il futuro. Fare questa sperimentazione come quella che avete presentato stamane tra RAI, strategie tecnologiche ed Eutelsat come un inno alla bellezza del Paese Italia, in un certo senso, dato che i riti sono sempre importanti come i simboli, vuol rappresentare o può rappresentare una sorta di rinnovato patto con il Paese? Ma direi che assolutamente, la RAI, pochi probabilmente sanno che è davvero all'avanguardia nel campo tecnologico, con il proprio centro di ricerche, le strategie tecnologiche hanno rapporti e relazioni con i massimi broccaster al mondo, la NHK, la BBC, addirittura nel 2008 insieme a loro, quindi in un progetto internazionale, ci permise di fare un'esperienza sull'8K, vincendo il premio dell'IBC di Amsterdam a cura appunto della parte del centro di ricerche, quindi la RAI ha una tradizione, è stata prima nell'introduzione dell'alta definizione, i mondiali del 90 hanno rappresentato la prima trasmissione in digitale in alta definizione in Italia e nel mondo, quindi la RAI è abituata a essere prima nelle applicazioni. Devo dire che quello che l'utente chiede è un miglioramento dei contenuti anche grazie alla tecnologia e questo è uno sforzo della qualità tecnica che è uno delle mission proprio di strategie tecnologiche.